Carissimi amici, eccoci qua, sono fuori, non posso fare il video da casa, ma mi raggiunge la notizia che il Crotone ha fatto il mezzo miracolo e facendo il mezzo miracolo ci dà la speranza la speranza di andarci a giocare la finale a Roma con la Lazio quindi nonostante tutto, nonostante che ci siamo fatti i karakiri, nonostante che abbiamo fatto tante stronzate, tante stupidate abbiamo ancora la possibilità, incredibile, incredibile il gioco del calcio che a volte ci dà tante novità, tanti colpi di scena in fondo noi non meritiamo, ve lo dico, ve l'ho detto, non meritiamo di andare in Champions ma il destino vuole, ha voluto concederci un'ultima chance grazie Crotone, grazie Zenga, grande portiere, grande capitano dell'Inter che ci ha regalato questa speranza che vi devo dire, da un lato sono commosso, fiducioso, speranzoso speriamo che adesso vada tutto bene abbiamo buttato al vento tante possibilità adesso ce ne sta l'ultima, l'ultima possibilità andare a vincere con la Lazio a zona non è facile, ma a questo punto su una partita secca abbiamo il nostro 30-40% non buttiamolo a vento ragazzi grazie di cuore al Crotone abbiamo fatto di tutto, ripeto, abbiamo fatto di tutto per distruggere per dare delusione ai nostri tifosi ma lo sgoglio, c'è il destino, il fato nero azzurro sta ancora a galla, a galla, aggrappato a un salvagente salvagente che ci è stato lanciato da Crotone quindi adesso tutti a Roma a fare questa finalissima con la Lazio e vada come vada dobbiamo cercare di giocarcele stavolta con lo sgoglio, dignità dobbiamo vincere, ma comunque dobbiamo lottare come leone e uscire dal campo da leone questo è tutto, grazie poi faccio un altro video a mentre è fredda, sono troppo contento oggi e grazie, grazie a Zeg ciao a tutti